La scuola è la scuola Quelle le scarpe Fabrizio hai 22 e tu 10 5 4 3 2 1 Vai 4 5 6 6 6 7 8 8 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 Sì, 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 sì Arriba! Arriba! Sono! Arriba! Dai, dai, dai! Grazie! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.